Il mio cane abbaia quando passo vicino alla ciotola. Cosa devo fare? Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi parliamo di questo comportamento che spesso si insinua nella vita del cane e dei proprietari assolutamente dal niente. In realtà i segnali ci sono stati ma purtroppo oppure probabilmente non sono stati notati e questo porta nel tempo a un accentuarsi dei segnali che diventano sempre più forti e sempre più importanti. Mi è capitato di vedere proprietari che sono stati morsicati vistosamente in questi episodi. Anni fa ai tempi dei miei esordi in cinofilia ricordo che veniva consigliata una pratica ormai obsoleta, assolutamente per fortuna e a dir poco assurda. Quando si dava da mangiare al cane bisognava mettere la mano nel pasto, girarla e anche portare via la ciotola e di tutto senza che il cane dicesse nulla. E se lo facessero a voi, se lo facessero a te, se lo facessero a me, ti assicuro che la persona si troverebbe la forchetta piantata nelle mani. So che è esagerato quanto sto dicendo, ma è un'invasione della privacy e soprattutto delle distanze prossemiche che per il cane sono fondamentali. Questo è troppo anche per un proprietario. Partendo dal presupposto che il ringhio sulla ciotola probabilmente rientra in un problema di comportamento, è opportuno anche dire che ognuno deve avere la propria intimità, soprattutto, e lo ripeto, soprattutto nei momenti come il pasto o il riposo. Il comportamento sulla ciotola ha una componente fondamentale da riconoscere, che è la possessività, che a sua volta può dipendere da un assetto gerarchico assolutamente sbagliato e sbilanciato. Sì, lo so che non ci credi, ma il cane considera sua la ciotola e non vuole condividerla assolutamente con nessuno. Attenzione, perché in un contesto così si rischia un morso veramente serio. Quando si riconosce l'inizio di questo comportamento, la cosa più importante da fare è rivolgersi ad un educatore cinofilo per intervenire nella risoluzione del comportamento stesso. Ma tu devi fare delle cose, devi osservare bene il tuo cane durante la preparazione del pasto. Cerca di non agitarlo e di muoverti il più lentamente possibile. Quando prepari il pasto, fallo in sicurezza, chiuditi in cucina e fai aspettare il cane fuori dalla porta. Quando hai preparato il pasto, forniscilo al cane, coprendo la ciotola con il corpo in modo che funzioni da scudo. Appoggia la ciotola per terra e fai mangiare il cane in assoluta tranquillità. Questi passaggi creeranno la calma essenziale per poter iniziare il lavoro di rieducazione comportamentale. Ciò che devi osservare è che il comportamento non si sposti dalla ciotola ad altri oggetti come giocattoli o altro. Se questo avviene è perché si sta innescando il principio di generalizzazione e quindi il cane prende possesso di tutto ciò che gli capita a tiro. Questo video ti servirà per capire i primi segnali di avvisaglia di possessività. Seguici sui nostri canali social e metti un like al nostro canale di youtube.